Prosegue il progetto Care Levers portato avanti dall'azienda speciale di Montesilvano e rivolto ai ragazzi e alle ragazze che vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e che a compimento della maggiorità dovendo lasciare la comunità di accoglienzo di affido restano in uno stato pressoché di abbandono. L'azienda speciale nei mesi scorsi ha risposto ad una manifestazione di interesse a carattere regionale per la partecipazione al progetto sperimentale aggiudicandosi come unico ente in tutto l'Abruzzo il finanziamento triennale di 102.000 euro. L'assessore alle politiche sociali del comune di Montesilvano, Sandra Santavenere spiega come siano già quattro i nominativi proposti risultati ammissibili al progetto. Noi con i servizi sociali attraverso dei colloqui individuiamo il ragazzo che ha le caratteristiche per avere questo sostegno che ovviamente prevede un corso di formazione e poi inclusione lavorativa. Ovviamente è un momento difficile per un ragazzo che ha raggiunto appena la maggiorità e si trova praticamente fuori da qualsiasi tipo di aiuto e quindi per noi l'amministrazione e per i servizi sociali è molto importante dare questa possibilità. Il progetto durerà tre anni, quindi accompagnerà questi ragazzi fino all'accompimento del ventunesimo anno di età. Qual è la speranza per questi ragazzi una volta arrivati a compiere il ventunesimo anno? Che possono avere comunque, in base anche alle competenze che vengono individuate dai servizi sociali attraverso colloqui, aver potuto fare un percorso di formazione ed essersi inseriti o comunque in procinto di poter avere quelle competenze da garantire l'inserimento lavorativo.